mi chiamo Andrew e ho 15 anni ma mi succedono cose che non dovrebbero accadere proprio no mi ritrovo con dei graffi all'inizio pensavo sono solo graffietti semplicemente graffietti ma alla lunga cominciano a diventare sempre più profondi e dolorosi mi accade quando sono nervoso svengo e mi ritrovo con quei cazzo di graffi sul ventre odio ammetterlo ma comincio ad avere paura molta paura graffi 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 la Grazie a tutti.